l'intervista la faccio dopo fotografi sono pregati di finire solo al momento della crisi niente foto adesso, abbiate pazienza non niente foto adesso, stiamo iniziando la resa, abbiate pazienza senza posto? Sebastiano che assegna il posto, vieni allora ragazzi cercate di serrati per il comitato presidenziale di Tuttia raggiù per favore non fate il più grande iniziano la fine della crisi Grazie. Scusi, no, non mi metto in basso io, no. Anche il primo doveva prendere. Scusi, no, non mi metto in basso io, no. Scusi, no, non mi metto in basso io, no. Scusi, no, non mi metto in basso io, no. Scusi, no, non mi metto in basso io, no. Scusi, no, non mi metto in basso io, no. Scusi, no, non mi metto in basso io, no. Scusi, no, non mi metto in basso io, no. Scusi, no, non mi metto in basso io, no. Scusi, no, non mi metto in basso io, no. Scusi, no, non mi metto in basso io, no. Scusi, no, non mi metto in basso io, no. Scusi, no, non mi metto in basso io, no. Scusi, no, non mi metto in basso io, no. Scusi, no, non mi metto in basso io, no. Scusi, no, non mi metto in basso io, no. Camminerò, camminerò nella vostra signora, la mia mano voglio restare sempre insieme a me. A volte son triste ma mi vado intorno, sopra il mondo e l'amore, sono questi doni che mi pare, felice di tornare a cantare, camminerò, camminerò. I figli si rivolgono a Dio chiamandolo Padre, preghiamo, ascolti a Dio Signore, i rigenitori e i bambini che si sono fatti i garanti della fede di questi cresivanti, perché quelli che non impegno, ti aiutino con la parola e con l'esempio. A seguire la via di Cristo, preghiamo, ascolti a Dio Signore, per la chiesa di Dio radulata dallo Spirito Santo. Insieme con il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Santatore e tutti i Vescovi, perché cresca dell'unità della fede e dell'amore fino alla venuta di Cristo, preghiamo, ascolti a Dio Signore, per il mondo intero, perché tutti i giovani che hanno un solo creatore base, si riconoscano fratelli al di là di ogni indiscriminazione, di razza e di nazionalità, e cerchino con le alzare il Regno di Dio, che è pace e gioia dello Spirito Santo, preghiamo, ascolti a Dio Signore. Perché le comunicazioni sociali siano, in questa comunità di credenti, i prodigi che la forza del tuo amore ha incessantemente operato, fin dall'inizio della predicazione del Vangelo per Cristo, nostro Signore. Sì, tutti, mi raccomando a Dio Signore di dare l'appoggiamento, iniziamo la celebrazione a Dio Signore, quindi finiamo la vente, l'avvento molto generale, perché la sua preghiera sia anche pronta. E con l'assemblea degli angeli e dei santi, canta l'igno della gloria. Sì, tutti, mi raccomando a Dio Signore, il Signore, Dio dell'universo, Inizio Signore di mani, che è l'aere il nome dell' Iglesia, che è un'e allora come a Dio Signore. Che è un'espressione di forte di forte di�네 Alleluia! Alleluia! Conchè non succede la conclusione al termine della Messa? Alleluia! Se le pregiamo Gesù veni qui tra noi, Dio... Dio, Onnipotente e Misericordioso, che alla Prochiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio della Patria eterna, dove hai intalzato l'uomo accanto a te nella gloria per Cristo nostro Signore. Amén. E prima di partire, per cuore la solenne benedizione conclusiva, desidero comunare tutti voi che avete ricevuto il saldamento della Crescima e auguri infermili. Siate lemori di questo dono e corrispondete con la vostra attenzione di fede e con la vostra testimonianza di carità alla diffusione dello Spirito Santo, che resta in voi una sorgente viva di vita e di apostolato, e l'augurio esteso ai padrini e alle padrine, ai familiari, a tutta la comunità parrocchiale che vi ha guidati, a questo giorno vi ha preparati, che gioisce con voi e che attende da voi ora la collaborazione qualificata per la missione che insieme con la guida del Parlo, come dice Parlo, come tutti i collaboratori, dovete compiere nel vostro quartiere, in mezzo ai vostri fratelli, per la gloria del Signore, per la edificazione. E con il tuo Spirito sia benedetto in nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito.